un malora costretto da odi battaglia ex può interrompere il concerto che stava tenendo a piazza maggiore a bologna dove ha chiuso il suo inno alla musica tour 2022 nel giorno in cui la città festeggiava suo patrono san petronio e radio bruno può stare su facebook un video in cui si vede il cantante musicista sul palco attorniato da persone che ne controllano lo stato di salute fortunatamente secondo quanto si apprende nulla di grave anche nelle scorse settimane dodi era stato costretto a interrompere un altro concerto e un ricovero forzato in puglia in quell'occasione aveva detto vi ringrazio per la vostra comprensione del vostro affetto vi do appuntamento alla prossima volta quando sarò un attimino più tonico ma mi dicono che è il momento di lasciar stare grazie vi voglio bene voglio bene a voi e voglio bene a bologna la città della musica cosa che io dico sempre a concluso vi voglio bene a voi e voglio bene a voi vi 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 voglio bene a voi